Una madre dalle mani stanche per il lavoro, una madre preoccupata, una madre che stringe al petto, una madre con le lacrime negli occhi, con il rosario tra le mani, che accompagna lungo il percorso della mia vita, una madre che guarda ansiosa fuori dalla finestra, aspettando il mio ritorno, una madre che nel suo sguardo ha riflesso il cielo della madre di Dio. Grazie.